Allora amici miei, stasera abbiamo Minecraft ma è comandato con la chat, è pingato in chat, troverete la lista dei comandi, se andate a controllare qua, lo potete vedere, questa è la lista dei comandi, lo trovate... Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Che cosa gli hai fatto? Che cosa? No, ma no! Ma no Yuri! Yuri, Yuri no! Chat! È orribile! Ma è orribile! Gli hai fatto una plastica facciale! Ma secondo Mr. Beast che cosa gli hai fatto? Dovevi togliergli la cecità, non dovevi... Va bene, Yuri da ora in poi avrà questa... Ma se tipo... Tanto va via... No aspetta che si sta asciugando! Ah ok, non asciugui... Va bene, niente ragazzi, Yuri è in stato strano... Mi vuoi riempire la borraccia per favore, grazie? No! Grazie! Stavo dicendo, stasera questa è la lista dei comandi, se scrivete in chat punto esclamativo Minecraft o lo trovate pingato in chat, vi da questa lista. Questa lista la potete tenere nell'altro schermo e lo potete tenere aperto in un'altra scheda, non è altro che la lista dei comandi. Un po' come per la live di Capped sarà pressoché simile, ok? C'è una meccanica che però devo dirvi, purtroppo con il bot che vi fa giocare a Minecraft, voi non potete controllare il cursore del mouse, ovvero la visuale. Questo significa che la visuale dovrà essere controllata da me, ok? La visuale sarà controllata da me e quindi il mouse lo muoverò io, tutto il resto sarà fatto da voi. W, A, S e D sono per muoversi, Z e X sono clic sinistro e clic destro, C è lo shift, quindi il maiuscolo sinistro per accovacciarsi, salta, vi fa saltare, vi preme la barra spaziatrice e apre l'inventario, Q droppa l'oggetto, per favore ragazzi stiamo attenti, F fa tipo la cosa che scambia nelle mani la sinistra con la destra, non lo so, e dall'1 al 9 sono gli slot dell'inventario, ok? Come si fanno ad usare per quelli che non hanno mai fatto una live del genere con me? Semplicemente se volete muovervi, punto esclamativo V per andare su, ok? Molto semplice. Questa cosa ripetuta per tutto, per gli slot dell'inventario è punto esclamativo 1, per il primo slot, punto esclamativo 2, per il secondo slot, bla 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 bla. Per abbassarsi... C'è un... È shift, no è shift, ok giusto è shift raga. Abbassarsi è shift, non c'è correre, non c'è correre, è punto esclamativo C. E sarà lunghissimo, sarà davvero lungo. Per aprire l'inventario, punto esclamativo V, sta scritto qua. Ora c'è una meccanica, se volete tenere premuto un tasto, lo tiene premuto per due secondi e mezzo, non puoi settare le fraccette della tastiera per la visuale, no, ci ho provato, zero, purtroppo per Minecraft va fatto così. Stavo dicendo, se volete tenere premuto un tasto, basta che scrivete punto esclamativo hold key e staccato il tasto che volete premere. In questo caso, punto esclamativo hold key W ti fa andare dritto, ok? Per tipo due secondi e mezzo. Se dovete mangiare il cibo, hold key X e tiene premuto il tasto destro per tre secondi, ok? Cosa faremo adesso? Io creo il mondo, anzi fatemi aprire Minecraft per cortesia, fatemi aprire Minecraft. Io adesso creo il mondo. Lo facciamo in sopravvivenza, ok? In modalità facile, coi mob, cortesemente, così non mi morite 8000 volte di seguito. Il seed? No, il seed sarà messo a caso. Non iniziamo con queste cose di Minecraft che non capisco, per favore. Facciamo che... No, che creative. Dovete sopravvivere, chat. Dovete sopravvivere. Altro che... Ciao, Mac Andrea, grazie per la sabbre calata, carissimo. Benvenuto in live, ho aperto molti giocatori. E grazie anche ad Alice per il cinquantesimo mese. Grazie! Grazie. E grazie a Uso per il tier 1. Vi ringrazio di cuore a tutti per gli abbonamenti. Ah, e per il 100 bit a Giova. Ciao, Paul, del seed sarà random o lo scegli te? Lo scegli tu, Giova. Lo scegli tu, perché è da una 200 bit. Vai, sparamelo. E grazie ad Andrex per il quarantottesimo mese. Ciao, Andrex, come stai? Allora, qua lo chiamo chat versus Minecraft. E modalità sopravvivenza, difficoltà, mettiamo facile, se no non ce la fate. Comandi. Qua il seed è qua. Vai, Giova, dammi il seed. Dove sei, Giova? Giova, naughty. Giova 7. È che non ti vedo io. Maledizione. Facile alla Pacifica? No, Pacifica alla Pacifica. Quando vai in Sudafrica? A fine settembre. Vai, Giova, dammi... È considerabile un server sub di Minecraft? Beh, tecnicamente... Tecnicamente no. Certo, dobbiamo distruggere l'Ender Dragon. Sarebbe incredibile, Andrea, se riuscite a fare l'Ender Dragon. L'hai messo in Pacifica? Oh, avete ragione. Risolto. E facile, messo facile. Giova, dov'è il seed? Dammi il seed, Giova. Giova, naughty. Giova è scomparso, ragazzi. Sta cercando il seed, lo sta decidendo. Eh, però io devo creare il mondo. Ah, ha senso. Ah, grazie di cuore l'alice per l'acqua. Giova è andato in overdose. Niente, Giova, purtroppo hai fatto tardi. Sceglierò io che il seed sarà 43.16. Va bene, non so perché abbiamo scelto 43.16 come... Rieccomi. Ah, eccolo. Giova, vai, scegli il seed. Va bene, 43.16 come l'UX? 43.16, d'altronde. Va bene? Come seed? Dai, dimmi sì, ti prego. Porto scritto il plan in chat. E la madonna. Tra 80 anni sconfiggiamo le... Allora, qua non devo mettere altro. Regole di gioco. Ah, ecco. È arrivato il seed. Come mai proprio questo seed, Giova? Incredibile, stavo cucinando, mi scuote il cellulare e mi ha cambiato la live. Bene. Aspetta un attimo. Questo è il seed. Non so perché proprio questo seed vuole Giova, però andiamo. Chat versus Minecraft, sopravvivenza facile, comandi. Andiamo. Ragazzi, I comandi li avete. Punto esclamativo Minecraft in chat vi dà la lista dei comandi. Sono molto semplici. Io adesso avvio il bot così da ora in poi funziona. Ok? Aspettate un attimo che si sta creando. Aspettate un attimo che si sta creando. Ora io devo andare nella mia chat perché giustamente lo devo fare da telefono. Non è che l'hanno messo da PC. Oh, signori, punto esclamativo. No, punto esclamativo è il cazzo. Devo vedere se Minecraft ha i suoni. Ecco. Ok. Dov'è? Dov'è? Ok, perfetto. Fatemi abbassare qua un po' la musica. Devo sistemare l'audio, scusate, chat. E poi ci siamo. Allora, musica no. Direi che così va bene, no? Facciamo così. Chat. Però questo non è growth seed, quindi no. Che significa non è growth seed, quindi no? Che problema ha? Ha qualche problema questo seed? Penso di no. Certo, non finiamo nell'acqua. Eccola. Vai. On, signori. E tutto vostro. E tutto vostro. Guarda, dove andate? Allora, chat, è giusto. Io devo muovermi. Me lo dimentico sempre. Allora, non c'è bisogno di aprire l'inventario. Scendiamo giù innanzitutto. Chiudiamo l'inventario, per favore. Scendiamo... Ragazzi, non aprite l'inventario. Puttana la miseria. Andate giù. Giù. Non shift. Bravissimi. Legno. Legno. Bravissimi. 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 Dobbiamo solo prendere il legno. Questo pezzo di legno, secondo me, è fattibile prenderlo. Secondo me è totalmente fattibile prenderlo. Allora, attualmente non c'è bisogno di spostarsi, né di aprire l'inventario. C'è bisogno solamente di chiudere l'inventario, sì. E di andare... Allora, ragazzi, il tasto sinistro... Bravi! No? Oh, cazzo. Non lo tiene premuto per abbastanza, forse. Forse non lo tiene premuto per abbastanza. Vediamo. Allora. E il tasto sinistro è Z, quindi è hold key Z per testare. Ok, chat no, state andando indietro. State andando indietro. Non dovete andare indietro. Puttana la madre... Allora. Questo. Questo, esatto. Esattamente questo. Esattamente questo. Provate a spaccarlo. E no, perché lo tiene premuto per troppo poco tempo. Ok, fatemi cambiare questa cosa. Devo fare in modo che lo faccia per più tempo il tasto sinistro. Ok. Fatemi settare un attimo qua. Facciamo che lo tiene premuto per tipo 4 secondi. Secondo me è un sacco 4 secondi. Però dovrebbe farcela spaccare il legno. Scopriamo se riuscite a spaccare il legno con 4 secondi di hold key. Vai. Punto scena di on. Tutto vostro, chat. No, se aprite l'inventario mentre uno sta spaccando. Chi sono i bastardi che stanno sabotando? Eh? Cioè, allora, mo vedo chi è che sta aprendo l'inventario. Vediamo chi è là il maledetto stronzo che sta aprendo l'inventario. Allora, andare indietro non serve, innanzitutto. Saltare lì sì, però bisogna andare avanti e saltare. Indietro non ha senso. Indietro non ha senso. Andare indietro non ha senso. No, nemmeno aprire l'inventario. Bisogna andare avanti e saltare. Ora, non so perché state continuando ad andare indietro, visto che S serve per andare indietro e W serve per andare avanti. Ok? No. Ragazzi, non dovete aprire il cazzo di inventario! Chiudetelo! Chiudete sto cazzo di inventario! Andate in quel... È semplice! Oh, bravi, siete saliti. Ora, andate sul... No, non dovevate scendere. Dovevate andare in quel... Come facciamo ad arrivare all'Ender Dragon se lo stato è questo? Sembra di giocare a Minecraft con qualcuno che sta sbattendo la minchia sulla tastiera. Vai! Ok, sì, sì, bravissimi. Bravissimi. Il tempo del... Che ci vuole? Il tempo che ci vuole? Mamma mia, chat, questo cazzo di inventario, eh! Mamma mia, chat, questo cazzo di inventario. Chat, che cazzo sta succedendo? Vi calmate un attimo. Fermi. Non c'è bisogno di spammare. Piano piano ci si arriva. C'è bisogno di non aprire l'inventario innanzitutto perché sta bloccando tutto il processo. C'è bisogno semplicemente di spaccare questo blocco. Allora, lo chiudo io l'inventario, maledizione. Vai! Spacca quel blocco. Allora, chat, io capisco che sia di molto divertente per voi premere E in questo momento. Però non serve! Cosa ridi tu? Stai ridendo perché ti fa ridere? Non fa ridere. Gli stai dando... Se ridi gli dai forza per farlo. Anche io arrabbiandomi mi dà forza per andare a premere E. Madonna santa. Dovete collaborare, chat. Dovete essere bravi. Stasera dovete dimostrarmi che insieme siete capaci di superare ogni ostacolo. Ok? Insieme. Insieme siete capaci di farlo. Vai. Piano piano ce la potete fare. Ciao Mello, grazie per i 100 bit intanto. Grazie anche per gli altri 200 bit. Ti ringrazio carissimo. Grazie a Il Mugnaio per il Prime, a Lepilax per il Prime e a Capretta per il quinto mese. Ciao Belli. Grazie di cuore per la sub. E ad Andrea per la sub regalata. Carissimo Andrea, ti ringrazio. Allora. Io, è incredibile perché ogni volta che guardo lo schermo c'è sempre l'inventario aperto. Chat. Allora io credo che qua in mezzo a voi ci sia qualcuno che non ha mai giocato a Minecraft. Sono sicuro di questa cosa. Ora ditemi che gioco serve aprire l'inventario così tante volte. Manca il text to speech. Ora lo apro, ora lo apro. Sì? No. Assolutamente no. Ok. Quasi. Quasi. C'eravate chat? Ma chi è che sta andando indietro? No, guarda, guarda. Dai. Ce l'avate quasi. Madonna che è snervante prendere un singolo blocco di legno. Dovete prendere un cazzo di blocco di legno. Un singolo blocco di legno. Vai, sì. Esatto. Questo qui. Esatto. Sì, sì. Ok. Hold key vi permette di tenere premuto un tasto. Non funziona su alcuni. Tipo l'inventario o il droppa o altro. Funziona solo per tipo i movimenti, tasto sinistro e destro. Tipo il tasto sinistro dovete iniziare a premerlo. Esatto. Hold key Z vi fa tenere premuto il tasto sinistro. E l'inventario non c'è bisogno di tenerlo aperto assolutamente. È che basta che lo clicca uno. Gli altri per toglierlo iniziano ad aprirlo a spam. Come sta andando male Prince? Non lo vedi? C'è qualche testa di minchia in chat che continua ad aprire l'inventario. Ok, ho un'idea. Tolgo l'inventario. Che cosa ne pensate di questa opzione? Tolgo l'inventario. Non lo potete aprire. Non lo potete aprire l'inventario. Non lo potete... Lo tolgo. Così... Così lo tolgo. Lo tolgo totalmente. Lo rimetto dopo, maledizio. Sì, ma ci dà il tasto ESC. Eh, il tasto ESC è... Esatto, è la E praticamente. Vai. Non so perché vi state allontanando. Volete andare in questo qua? Non lo so. Se lo preferite andate là. No, ESC non c'è. Come tasto. Esatto. Questo. Guarda come gli si è avvicinato tutto in crouch. Tasto sinistro. Esatto. Esatto. No. Questo qui. Bravo. Non ce la si fa. Sì? Cosa state facendo, chat? Perché non riuscite a farlo? Ah, perché qualcuno lo annulla. Prince. Slow mod. 20 secondi. Ho attivato la mia carta trappola. Ah, perché probabilmente c'è un tasto che quando viene cliccato annulla totalmente. Annulla totalmente. Forse il tasto sinistro. Non lo so. Allora, chat. È un pezzo di legno. Ce la potete fare? Non è così difficile. L'ho visto tantissimi arrivarci. No. Assolutamente non così. No. Così. Esatto. Vai, lì. Lì. Pensa se c'era la visuale, chat. Pensa se c'era la visuale. Lo tiene premuto per 5 secondi. Come è possibile che non riesce a spaccare quel blocco di legno? Allora. Devo togliere l'inventario. Devo togliere. Scusate, chat. Siete stati molto cattivi stasera. Devo togliere l'inventario. Ok. Perfetto. Tecnicamente adesso dovrebbe andare. Siete stati molto cattivi, chat. Cattivi. Ok. On. Adesso funziona. Eh, guarda che scatto. Vedi? Non serviva l'inventario. Bastava solo... Eh? 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 Sì. Questo. Sì. Sì. No. Sì. Questo. Questo qua, raga. Esattamente questo. Bravi. Bravi. Allora. Solo all key zeta. All key zeta e basta. Ma perché... Forse perché lo premono in troppi si toglie? Forse. Boh. Allora. Non scrivetelo tutti. Lo deve scrivere solo uno. E detto a mille persone chat. Non ce la faremo mai. Allora. Sì. Questo. Esatto. Esatto. Vai. No. Niente. Se premono un tasto destro lo spazio si allontanano. Ah. È perché stanno premendo altri tasti. Ce l'avevamo quasi fatta. Allora. Chat. E zeta. X non serve. Perché x o allontanarsi toglie. È solo la zeta per spaccare. È solo la zeta per spaccare. C'è qualcuno che sta premendo il tasto destro. Sono sicuro. Esatto. Sì. Sì. Madonna. Mi sta venendo l'ernia. Mi fa male la schiena. Ed è fastidiosissima questa cosa. Voglio vedere quel cazzo di blocco. Chat. Sta tramontando il sole. Non siete ancora riusciti a spaccare un pezzo di lernia? Megno. Ma no. Perché i secondi vanno bene. È che qualcuno preme il tasto destro. E quindi annulla totalmente l'azione. Capito? Faccio un chat solo per all'alchizeta. È esatto. E noi avevamo l'ender dragon. Ma io non ci ho mai sperato. Ma dite perché non ci arriva quei secondi? No. È perché qualcuno... No. Ma... Minchia. Sono 4.000 millisecondi. Sono 4 secondi interi. Eh. Ma ci vuole più tanto. Eh. Ci vuole di più. No. 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 È hold key zeta. Chat. Punto esclamativo. Hold key zeta. Tutti gli altri sono inutili. Serve solo hold key zeta. Serve solo quello. Serve solo quello. Dovresti fare in modo che prima... Ah. Ho capito. Cioè. Ci vuole la... La quewe. Eh. Ciao. Eh. Ciao per quella. Esatto. Esatto. E hold key zeta. E hold key zeta. Senti. Aumento i secondi. Facciamo così. Mi avete fatto venire il dubbio adesso. Mi avete fatto venire il dubbio. Dite che sono i secondi. Ma dubbino. Five seconds. Ci mette? Ok. E fammi vedere qua dov'è. Hold key. Lo metto a 8. A sto punto. 8000. Vediamo se va. Ok. Ah. Il text to speech. Giusto. Fammi vedere qua. Text to speech. Avvia. Para. Papà. Ce la faremo chat. Ce la faremo. Voi riuscirete a sopravvivere. Sta pure per fare notte. Ok. Il text to speech c'è. Please non usatelo male. E ok. Fammi andare on. On. Sì. Sbagliato. Ho scritto ob. Chat sta per diventare notte. Mospa non i mob. Dovete scappare. Se non riuscite a spaccare. Erano i secondi. Chat. Io vi chiedo scusa. Se vi ho preso in giro. Se vi ho. No. Non dovete iniziare a dropparli. Però figli di puttana. No. Non dovete iniziare a dropparli. Non ci posso credere. Non ci credo. Allora. Ciao. Cosa hai mangiato stasera? La morte. I bambini. Il sangue. La sofferenza. Allora. Ci sono un po' di mob. In giro. State attenti. Abbiamo due pezzi di legno. Non avete l'inventario. Prendete il legno. Poi. Donna. Per spregio. Scappate. Chat. Fuggite. Fuggite. V. V. La V. Non la S. La V. La V. Non droppate il legno. Prendete il legno. Scappate. Chat. Via. 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 All chi vuole. Dovete solo fuggire. Non andate indietro. All chi vuole. All chi vuole. Niente. Allora per favore. Chat. Non iniziate a fare i figli di vostra madre. E non premete Q. No. No. Tutti insieme. Lo schifo. Lo schifo. Lo schifo. God hanno iniziato a litigare. Via. Via. Andiamo via. Hanno iniziato a litigare. Siamo stati benedetti. Chat. La V. La V. La W. Che cacca. Questa è una W. No. La V ho detto. La V. Bravi. Oh. Grande chi l'ha messo nell'altra mano. Ok. Sì. Sì. V. V. Voi andate avanti. Chi è che va indietro ragazzi? Avete qualche problema nella comprensione del testo? Avanti. Non ho detto indietro. Chi ha posizionato il legno? Avanti. 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 No ragazzi. Ma non buttate il legno. Ci abbiamo messo un sacco per prenderlo. Salite. Salite. Bravissimi. Prince. Trenta secondi di slow mod. Non riusciremo a spaccare l'Ossidiana. Comunque ora andiamo a farci esplodere. Vabbè l'aumento. Cos'è quello? Come si faceva all'Ossid? Un bambino di nove mesi giocare a Minecraft. Posso anche sentire il gugu gaga. Sì esatto. Riprendete quel legno per favore. Basta che premete V. La muovo io la visuale. Premete V. Voi andate. Premete V. Premete V. Nasello. Ciao Andrea. Grazie per i 100 bit. Oggi stanno facendo soffrire. Comunque oggi sto donando il mio portafoglio. Andrea ti adoro. Grazie a me altri 100 bit. Hai messo l'autogjump? No. Com'è stata la giornata prima della live? Male. Molto male. Devo mettere l'autogjump. Come si mette l'autogjump? Sì. A posto. Autogjump messo. V. Dai ragazzi andate. Andate. Avanti. Bravi. Sei bellissimo bimba. Legno. No no no. Allora in questo momento dobbiamo difenderci. Scaviamo un buco sottoterra. Scaviamo un buco sottoterra. Che vero una scimmia. Ha battuto Minecraft. Vai vai scavate. Allora. Sottoterra. 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 Sembra di insegnare a giocare al tuo piccolo cuginetto che ha detto a sua madre di farlo giocare. Esattamente. Esattamente. No manco perché quello è ancora controllabile. Allora chatty adesso faccio respawn. Io faccio respawn. Saremo di notte. Scaviamo un buco sottoterra. E scappiamo. Mettiamolo a Keep Inventory. È una bellissima idea. No no. No no no. No no. Va bene. Ok. E dobbiamo riprendere il legno. Non ce la faremo mai. Allora dobbiamo. Andiamo di là. Andiamo di là. Bravissimi. Andiamo di là. Andiamo di là. Di qua. Di qua. Ok. Bravi. Bravi. Bravissimi. Allora. Dobbiamo riuscire ad andare. No. Passiamo di qua. Vai 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 vai. Vai. Dritto. Tutto dritto. Tutto dritto. Merda che cosa abbiamo schivato. Ok. Chattery. Rimaniamo sugli alberi. Chi è che è andato a destra? Scappate. Che state facendo? Fermi. 500 bit. No. Bastardo. Niente chat. Siete i peggiori giocatori di Minecraft del mondo. Allora. Allontaniamoci da qua. Andiamo lì. Guarda. Non spawnano mob lì. No. No. C'è l'acqua. Poi fai una fine peggiore. Siete tutti figli di buone donne. Basta fare l'istreo. Calmi. Calmi. Calma. No. Fuggi. Fuggi. Dovete andare via ragazzi. Dovete premere la V. È tanto difficile premere la V. È tanto difficile premere quel cazzo di te. tasto. È un ditino serve. È un ditino che premere la W. Oh. Bravissimi. Tutto dritto. No. Da dove è arrivato questo legno di guercia? Tutto dritto. Tutto dritto. Come abbiamo fatto a prendere tre pezzi di legno di guercia? A chat. Prima ci avete messo 40 minuti per prenderne uno. Adesso ne avete preso uno in... Cioè ne avete preso tre pezzi in un secondo. Com'è possibile? Vabbè. Andiamo avanti. Ok. Voi andate tutto dritto. Andiamo nella foresta. No. Chi è la merda? Chi è la merda? No. Mamma mia. Mamma mia. Allora. Prima cosa. Chat. Non sapete giocare a Minecraft? Vergognatevi. E per secondo. Alice. Vergognati. Perché Alice vergognati? Chi ha fatto? Ciao Andrea. Grazie per i 100 bit. Chat. Andate via. È notte. Quindi la notte sarà sempre così. Ehm. Via. La W ragazzi. La W. Io non vedo perché nessuno stia premendo la W. È allucinante questa roba. È allucinante. E cosa serve punto esclamativo C per shiftare? Testa di cazzo che ti ho letto. A cosa serve premerlo? Acco dimmi. Spiegami. A cosa serve? A cosa serve? Non serve a niente. Minchione che non sei altro. Dovete andare semplicemente avanti e scappare. Il vostro unico gol adesso è premere la W. È la W il vostro un... Il vostro un... Sì. Sarà finito. I diamanti. Stai scherzando. Ci vediamo fra sei anni. Chat. Chat. Tutto dritto. Chat. Dovete semplicemente andare via. Dobbiamo semplicemente scappare. È un gol molto semplice. È un gol molto semplice. È semplicissimo. Bisogna solamente premere la W. Ora capisco che ci sia la voglia di sabotarmi. Però in questo momento non serve. Vi giuro. Anzi. Vi dico una cosa. No niente. Non riesco a difendermi da questa roba. Lo farete comunque. Vai scappate. Chat. E basta. Scappate e basta. Scappate e basta. Vai. Sì. Sì. È semplice. Tutto dritto. Tutto dritto. È tipo quando hai la caviglia rotta. Non lo so. Non si gioca così a Minecraft. Andate a recuperare la filecraft episodio 1 se non sapete giocare. Se no vi scavano la merenda. No. No. Chat. No. No. È finita. Spazio raga. Spazio. 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 Puntesca ma Dio salta. Puntesca ma Dio salta. Puntesca. Effettivamente ancora non eravamo annegati. Arriverà il giorno chat. Arriverà il giorno. Allora però già c'è un po' di carne di zombie. Il che è utile. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere. Ok. Allora. Chat io confido che voi riuscirete a farvi una casa con il legno. Ce la fate a fare una casa con il legno. Ricordo che un pesce rosso abbattuto il den ring. Noi non riusciamo nemmeno a scappare da uno zombie. Su Minecraft. Cioè questo è vero però. Questo è verissimo. Allora. Eh. Già la terra va bene. Eh. Nove pezzi di terra. Perfetto. Teniamoci di chat. Scappiamo da questo. Da questo coso. Scappiamo. Eh. Teniamoci. Perfetto. Q. Bravissimi. Ok. Bella questa. Molto divertente questa qua. Mi ha fatto particolarmente ridere. Ok. Allora chat. Dobbiamo dividerci in due squadre. Una squadra gioca. L'altra squadra deve annullare le azioni fatte dalle troie in chat. Quindi. Difendete. Difendiamo. Difendete il gameplay. Vi prego. Ce la possiamo fare. No. Non ce la possiamo fare. È giorno. Dai. È giorno. Ok. Adesso non ci fa più male niente. Andiamo a prendere un po' di legno? Andiamo a prendere un po' di legno? Dai. Andiamo avanti. Dai. Andiamo avanti. Innanzitutto io proverò a recuperare il legno che abbiamo perso prima. Droppato ovunque. Non ce la faremo mai. Andiamo avanti. Dai. Avanti. Raggiungiamo quella foresta là sotto. Dai. Su via. Non mi piace questa. No. La visuale ce l'ho io. Quindi non ve lo permetterò. Ok. Non sarà così tanto complesso. C'è l'acqua. Ok. Andiamo in questa qua. Ok. No. Dritto. 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 Non a destra. Dritto. La V. Serve solo la V. Doppia V. Bravissimi. Ok. Vai. E ora si spacca. Ora. Pgliamo sto legno e proviamo a fare una casa. Sì. Chat. Chat. Siete insopportabili. Infatti siete insopportabili. Lo sapete? Chat. Siete. Siete. Siete incredibili stasera. Mi state facendo incazzare nero. Dai. Dritto. Dritto. Dovete solo andare dritto. Ok. Dritto. Dritto. È semplice. Dritto. Dritto. Bravi. Bravi. Dritto. Dritto. Non a destra. Non a destra. Hai ragione. Io chiedo scusa ai miei vicini. Chiedo scusa ufficialmente con questa. Però stanno mettendo alla prova la mia pazienza. Allora. Dritto chat. Dritto. Quel legno. Serve quel legno. Quel legno serve. Bravissimo. 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 Ok. Bravo. Ora. Questo legno. Tasto sinistro. È semplice. Bravi. Ora pigliamo questo. Ok. Con calma. Un pezzo di legno basta. Ne prendiamo un altro. Ok. Tasto sinistro basta. Tasto sinistro basta. Non servono altri tasti. Bravissimi. No. Questo no. Non andava bene. Anzi. 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 A causa di questa cosa. Io spero che la tua famiglia domani si sveglino tutti al mattino. Te che hai messo indietro. E improvvisamente il loro corpo si pieghi tutto all'interno e tutte le ossa si pieghino e iniziano a urlare mentre tu ti svegli e senti i tuoi genitori morire. Chiedo scusa ragazzi. Forse è un po' esagerato. Adesso respawniamo e lo prendiamo. Intanto abbiamo pure droppato il legno. Ma com'è possibile? Porca troia. Dai. Allora. Respawniamo e andiamo a prendere il legno. Io pensavo che sarebbe stata molto facile stasera. Cioè è semplice. Cioè giocare a Minecraft quando io controllo la visuale. Dovrebbe essere semplicissimo. Invece non è semplice a quanto pare. Non è per nulla semplice. Anzi è altamente stressante. Dai. Dovete prendere il legno. Dovete prendere il legno. Il legno. Il legno. Adesso metto solo sub. Adesso metto solo abbonati. Prince. Metti la slow mod di tre ore. Così è finita poi. Non scrive più nessuno. Prendiamo un po' di legno. Prendiamo un po' di legno e facciamo una crafting table. Dai proviamo a fare una crafting table. Bastano due pezzi di legno. No. Basta un pezzo di legno. Collaborazione. Io credo in voi. Io credo che se uniamo tutti le nostre forze. Possiamo riuscirci. Dobbiamo semplicemente prendere quel cazzo di legno. Eh no. State andando indietro. Bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti. E prendere questa roba. Vai. Vai. Sì. Non serve saltare. Ve lo assicuro io. Non serve saltare. Serve solamente spaccare. Al momento serve quello. Il tasto destro vi assicuro che non serve. No. Non serve. X. Non serve. Il tasto destro. Non serve. Serve solo il tasto sinistro. Tasto sinistro. Esatto. Oh. No. E perché poi ci si sposta giustamente. Sapete che c'è? Ma a me che me ne frega. Tanto il gioco è vostro. Forza. Fate. Anzi. Ma non uso nemmeno il mouse. Fottetevi. Andatevene a fare il culo. Solo una persona che prema H o L di K e Y z se non si annulla. No. Non si annulla. Dubito. Per nulla. Anzi. È perché viene premuto il tasto destro. Tipo viene premuto qualche tasto a caso che si annulla. Se no provo a sistemare sta roba della Queue. Magari è quello. Oh. Vai. Piazzatelo. Vai. Vai. Piazziamolo. Piazziamolo. No. No. Non serve. No. Per nulla. Serve piazzarlo. Provate a piazzarlo. No. Ecco. Adesso che dovevate spaccare il legno non ce l'avete fatta. No. Chat. Ma ci avete i problemi in testa? Vi ho detto piazzarlo. Buttarlo. Ma siete stupidi. Ho detto piazzarlo. P-I-A-E-Z-E-Z-E-A-R-L-O. Il 2. Ok. Dovete andare nel secondo slot per prenderlo. Non nel quinto. Non nel primo. Esatto. No. Non serve la Q. Ebete testa di minchia. Serve il tasto destro. Ora che serve. Oh. Bravi. Bravissimi. Ora. Andiamo avanti. Questa novità è fantastica con 72k punti. È vero. La devo alzare. La devo alzare. Allora. Prendiamo un po' di legno. Chat. Ecco. Io l'avevo detto in modo diverso. Prendiamo sto legno. Ok. Provo a fare un cambiamento. Non riusciamo a prendere il legno. Vuol dire che c'è qualche problema qui. Allora. Fammi vedere. Io non so come funziona la Queue qua. Perché ho il key. E io non lo so come funziona sta roba. Oh. È perché c'è una funzione dove tu puoi dire action Queue. E a quanto pare c'è un modo per metterla. Però non so come si fa. Infatti. Niente. Fai 10 secondi. Ma anche se la metto 10 secondi non cambia. Perché nel momento in cui qualcuno lo ripreme. Si va ad annullare. Cioè al momento è a 8 secondi. Servono 5 secondi per spaccarlo. Vai. Ci siete. Allora. Ora è molto semplice. Tanto. Abbiamo trollato sufficienza. Ora proviamo a fare qualcosa di concreto. Abbiamo come goal fare una casa. Non andare indietro. Non andare indietro. Abbiamo come goal fare una casa. Non andare indietro. Assolutamente non andare indietro. Questa è la prima cosa. Dobbiamo andare a spaccare questo. Proviamoci con all key z. Tecnicamente dovrebbe farlo. Tecnicamente dovrebbe farlo. Eh no. Vedi perché praticamente è come se. Ah è perché scambiano slot. E ferma l'animazione. Ma dubito. Dubito sia per gli slot. Io non credo sia per gli slot. Allora io ho il slash ban pronto. Quindi. Vai. Andiamo a spaccare questo blocco. È molto semplice. È all key z. E ve lo fa spaccare. Se viene premuto il tasto destro come ha scritto quella testa di cazzo di mangolini danni. Ciao brother. Viene annullata l'animazione. In questo caso. Se viene fatto solo all key z. Viene. No l'avete piazzato. Ma che cazzo avete nel cervello? Ma l'avete piazzato. L'avevate spaccato. Bravi. Non bisogna premere altri tasti. Bisogna semplicemente fare all key z. Lato avanti al legno. A questa distanza chiaramente non serve. Non serve. E perché ha tanti input z. No no. Non è quello. È perché l'animazione va. Cioè lo tiene premuto a priori. È perché vengono premuti altri tasti. Te lo assicuro io. Testato prima. Cioè non c'è il problema che viene annullata o altro. Finiti i dieci secondi. Poi ne rinizia un'altra. Se qualcuno l'ha fatto. JD. Io adesso ti dovrei bannare. Perché hai scritto culo sai. Però non posso farlo. Capisci? Basta. Grazie. Allora stiamo. Stavamo andando. Vai. Vai. Serve questo. Serve questo. Serve la z. Vi prego. Non premete i tasti a caso. Proviamo start ai ban. E che poi mi pare male iniziare quei ban per sta minchiata. Voglio solo tentare di fare una casa. E secondo me ce la possiamo fare. Secondo me ce la possiamo pure fare. Vai. Solo sub. Solo sub non è una brutta idea. Però poi è difficile. Però poi è difficile. Il temato 24 ore non è male sai. No sono più fan del ban. Flyman. Discord G. G. Aspettiamo un po' di ban così capiamo. Capiamo come cazzo funziona. Marshmallow Liam. Vai però ce la state facendo. Ce la state facendo a spaccarne qualcuno. No. Ora arriva la notte. Quindi è finita. Tanto quella gente riesce a fare nulla. Eh lo so. Eh lo so. Oh scusate. Mi sono messo a guardare male. Sorry. Dovevo sistemare la visuale. Allora. Vai. Vai. Spion 1000 tv. Addio. Sto banando tutti quelli che premono Q. È incredibile questa roba. Ne ho banati già 5. Vai voi intanto andate. Io faccio il mio lavoro. Sto divertendo. È bello giocare a fare Dio. Vai voi andate. Poi sblocco tutti i post live. Dai non serve. Ruwhat. Eh lo so. E' che è difficile tenere testa a tutti. Però secondo me ce la si fa. Non è quello. Dopo sbanno. Non lo so. Vediamo. Appena capisco. Fammi capire. Prima vediamo se riusciamo a prendere del legno. Ne abbiamo due pezzi. Ne abbiamo due pezzi. Muo arriva un creeper. No. No. Il creeper non arriva. No. Ma mettere in pacifica non ha senso. Non ha senso. Non ha senso. Però vedi. Piano piano sta andando meglio. Piano piano sta andando meglio. E che sto bannando tutti quelli che fanno cose che non c'entrano. Tipo gli slot. Tipo Q. Tipo andare indietro. E così è molto più facile. Tipo vedi. Ponte esclamativo 5. Non serve a niente. Quindi ban. E va via. Ponte esclamativo S. Se non serve a niente. Quindi ban. E vai via. Merda. È così che si sente Zeb89. Ma è bellissimo bannare. Non l'avevo mai fatto. Ma poi dal telefono è comodissimo. Vai vai. Dovete solo prendere questo pezzo di legno. È facile. È facile chat. È facile. Si può fare. Spam è facile da tutta la live. In realtà non è per nulla facile. No. Creperino. Aveva pure un bel nome. Ok. Ce l'ho. Ho trovato la soluzione chat. Ho trovato la soluzione. Allora. Piano piano piano. Che è sto suono? Mi fa crashare il pc. Piano piano piano. Che è sto suono? Tutto staccato. Allora. E Z. Il tasto sinistro. Giusto. Enable. E. Hold key. Enabled. Vai. Vedete chat? È molto semplice. Ho tolto tutti i tasti. Tranne il salto. Com'è possibile che va alla V? Ah perché ok. Ci sono quelli che. Ok. Devo togliere pure l'hold key sugli altri. Ok. Off. Ok. Devo togliere l'hold key giustamente da tutti. Devo andare qua a whitelist. Fare così. È difficile farlo. Perché con quelli che sabotano non si può fare. Devo trovare un modo per farlo senza. Come facciamo? Eh devo fare. O faccio solo sub. Però si muore il content. Devo fare. Che piano piano aggiungo comandi. Facciamo che piano piano aggiungo comandi. Solo per testare se funziona. Allora. Momentaneamente c'è solo questo. C'è una idea al dittatore Poldo. No. Sto solo tentando di capire se va. Ed è difficile nel momento in cui la gente mi sabota la cosa. Ok. Adesso dovrebbe andare. No. Ok. Adesso funziona solo la Z tecnicamente. Gesù Cristo. E funziona solo la Z. Minchia però vedi come va? C'è proprio lo spam di Z. Però lo tiene premuto. Tutti questi suoni. Normale? No vedi. Cioè allora io credo ci sia qualche problema. Nei tick che fa. Credo che li va a resettare. Apriamo il key Z. Sì praticamente quando qualcuno ripreme Z si va ad annullare. Ok. Ecco qual è il problema. Madonna ma c'è bisogno di fare così. Il necessario. Allora adesso toccherà trovare una soluzione a questa cosa. Devo andarmi a studiare come funziona la Quewe. Allora streamer bot Quewe Actions. Adesso la risolviamo. Allora. Ci sarà sempre questo suonino di sottofondo. Allora configurazione della Quewe. Allora. Sento un action qui. Ok. Tipo se io faccio così. Old key action. Core. Core action. Set. Eh madonna ma non ce la farò mai con questo. Allora. Devo riflettere. Ho caldissimo. Devo accendere il condizion. Allora perché il problema è che chiaramente spammandolo. Allora. Adesso facciamo un test. Metto solo sub. E on sub only. Come si scrive? Sub. Sub on. Come funziona la? Ah subscriber. Ok. La chat è solo sub. Adesso mi serve per testare se il problema è tanto le continuazioni che avvengono. Vai proviamo. Ora dovrebbe essere tutto. No. Non è vero. Non è tutto acceso manco per il cazzo. Ok. Sub. Provate a scrivere voi un attimo. Solo per testare. Poi la tolgo ovviamente. E non li vedo. Whitelist. Eccolo qua. Ok. On. Momento di testare chat. Che bello vedere solo sub. È il mio sogno. È il momento di testare. Niente. E io allora credo che qua ci sia un problema. Nel mettere una sorta di ritardo all'azione. Cazzo si fa a mettere... L'ho sbagliato dovevo... Sono stupido. La live di stasera mi sta esasperando chat. Si vede? Sono molto esasperato adesso. Si vede tantissimo. Allora. Perché più che altro voglio solo tentare di farlo funzionare. E questo suono è fastidioso. Non capisco perché lo faccia. Perché hold kill lo deve tenere premuto. L'azione siamo noi. Abbiamo già un ritardo. E dobbiamo... C'è sta roba della quewe. O rimando la live. Oppure ci proviamo lo stesso e vediamo quello che riusciamo a fare. Basta. E se saccheggiassimo un villaggio tipo... Non è una brutta idea. Guerbot per favore non spammare. Grazie. Non far parte della massa. E no. Perché c'è proprio un... Senti. Allora. Adesso la riattivo per tutti. Facciamo che in caso la rifacciamo una volta risolta questa roba. E... E adesso ricrevo il mondo. Perché questo seed fa cacare. Proviamo a spawnare da un'altra parte. E chat fate quello che potete. Cioè giocate. Vedete voi. Divertitevi. Chat versus Minecraft. Sopravvivenza. Difficoltà. Facile. Comandi. No. Crea mondo. Ok. On. Non serve hold key per picchiare. È vero. Effettivamente non serve hold key. Ah e devo togliere sub off giustamente. Perché se no possono scrivere... Sì vabbè. Possono scrivere soli sub. Sub off. Comando non riconosciuto. What? Ok. Ora dovrebbe andare. Chat godetevi il gioco. Benvenuti su Minecraft. Dovrebbe essere pure acceso. Prince riesce a togliere la chat solo abbonati? Che non ricordo qual è il comando. L'ho totalmente rimosso. Sono un babbo. Ciao Andrea. Solo abbonati no? Devi togliere la solo abbonati. Devi metterla per tutti. Ok. Assurdo però. Ce la stavamo quasi facendo. Bravi. Oh. Semplicissimo. Semplicissimo. Ora prendetene un altro. Vedete era la bircia. Ah scusate la visuale. Era la bircia il problema. Allora proviamo a fare una casa di bircia. La vedo dura. La vedo dura. Figuriamoci a saccheggiare un villaggio. La vedo molto dura. Però però sì. La visuale sì scusate. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. La vedo molto dura. Riuscire con il... Con il coso. Oh però. Però c'è la... No. La terra non serve. Prendete quello. Vabbè lo pigliamo dopo. Tanto sta là. Serve un altro pezzo di legno. Bravi. No. L'azione annullata. Ok. Prendete questo. Sì. No. No. Dobbiamo uscire dal buco. Sì. Vabbè. Figura di piazzarti i blocchi sotto. Vai. Vai. Questo. No. Assolutamente no. Non serviva a fare questo. No. Zero. Non serviva a fare questo. Nemmeno quello. Dovete uscire. Non so perché state spaccando ogni cosa possibile. Dai. Non droppateli raga. Mi prego. Dovete riuscire a... Dovete riuscire a... Ora vi apro l'inventario e li usiamo. Dai. Ora vi apro l'inventario. E. Oh. Tasto sinistro. Così li usiamo. No. La Q non serve. Tasto sinistro. Così lo usiamo. Tasto sinistro. Così lo usiamo. La X. Ah. Mi sa che così non funziona. No. Li devo mettere io nella crafting. Ok. Allora. To. Pum 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 pum. Avete il legno signori. Ecco a voi. Avete il legno. Fatevi una casa. La crafting non va purtroppo. Vai. Ora facciamo una casetta. Iniziamo a piazzarli qua. Secondo me. Ok. No. Madonna. È difficilissimo. Eh. Però guarda. Non so come avete fatto. Però ok. No. Spaccarlo non serve. Serve piazzarlo. Ok. No. Dai. La Q non serve. La Q non serve. Vi assicuro che la Q non serve. Prince Bandeku. È molto semplice Prince. Divertiti. Vai. Piazzate. No. Il tasto sinistro non serve. Adesso serve X. Vedete. Prima la usavate. Ora serve un'altra. Ok. Abbiamo finito il legno. Andiamo a prenderne altro. Chat. Dirigiamoci verso questo qua. No. Non facciamo. Non faremo la casa con il. Con il. Tolgo la Q. Dite. No. Non ha senso. Dai dai. No 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 no. Continuiamo. Continuiamo. Ce la possiamo fare. Questo è lo stato in cui ce la possiamo fare. Io sono sicuro che ce la possiamo fare. Bravi. 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 Bravissimi. Questo. Ok. E ora sopra. No. Questo. Sotto va bene. 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 Incredibile. Eh no dai. Non premete nel tasto destro. Negli slot. Rovina la. Rovina l'azione. Dai. Dai. Niente. Avanti chat. Avanti. Andare indietro no. Dovete andare avanti. Dovete riuscire a prendere quel legno. Dovete riuscire a prendere quel legno. So che potete farcela. So che potete farcela. Ah intanto avete altro legno. Aspettate che ve lo do. Tutto vostro. Vai. Vai. Questo pezzo. Questo pezzo di legno. Ok. No. Ce l'avevamo quasi però. Madonna che vi sto spostando la visuale. Se no altro che. Non ce la. Non la finiremmo mai. Vabbè. Volete piazzare i blocchi. Non volete più prendere il legno. Va bene. E. Ho usato la rotellina per sbaglio. È stata un'azione mia automatica. Dovete andare sul 9. Per prendere i blocchi. Così li piazziamo. Vai. Piazziamoli tipo qui. Facciamo così. Ok. Dai. Piazzatevi. Perché non funziona lo slot 9? Ha staccato i numeri? What? Però 2 va. No. Aspettate. C'è qualche problema. Non funziona lo slot 9? Boh. Vabbè. Ve li metto qui. Non funziona il 9 a quanto pare. Va bene. Però abbiamo questo. Il 2 funziona. Non so perché. Dopo vedo perché il 9 non va. Non dovete spaccarlo. Dovete piazzarlo. Ok. Perfetto. Fa schifo ragazzi. Questa casa fa altamente schifo. E. Fa altamente schifo. Vai. Voi spaccate. Bravi. Bravi. Vedi era semplice. Non so come avete fatto. Però bravi. Bravi. Spaccate quest'altro che non ci serve. Piazzano altro legno. Sì. Sì. Sta funzionando. Non so come sta facendo. Facciamo le bad words. Non lo so. Non lo so. No. Non serve il tasto destro. Vi prego. Nemmeno gli slot. Non servono gli slot. Serve il legno. Vai. Poldo ma non possiamo scrivere lo stesso messaggio. Eh? Io vi assicuro che. 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 Non serve premere altri tasti. Serve solo premere il clic sinistro. Esatto. Ok. E nemmeno punto esclamativo salto. Atsune Mikulove. Hai anche un nome di merda oltretutto. Dai. Avanti. 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 Lo stesso ogni 30 secondi. Ah. Sì. No. No. Sì. Non potete. C'è. C'è. C'è la slow mode ovviamente. No. Non serviva piazzare questi blocchi. Gruppo di teste di cazzo. Serve solo spaccare questo coso. Muoversi non serve. La mia pazienza non mi consente di continuare a vedere. No ragazzi. Ma è terrificante. Mi sta venendo l'ernia. È fastidiosissimo da vedere. Non avete idea. Sì. 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 Sto per mettere la slow mode a un minuto. Voglio solo ricordare che siamo qua da un'ora e un quarto. Ma l'altra volta su carpet era pure peggio. No. Era quasi rotto. Era quasi rotto. Questo. Questo va bene. No. Non bisogna allontanarsi. Chi è che si sta allontanando? Chat. Per favore. Non l'allontanarvi. Vi prego. Non serve allontanarvi. Serve solo spaccare. Serve solo spaccare. Serve solo spaccare. Serve solo spaccare. Devo fare legname. Devo fare legname. Devo fare legname. Devo fare legname. Saltare non serve. Saltare non serve. Devo fare legname. Devo fare legname. Devo fare legname 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 Devo fa... Oh! Bravi 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 Bravissimi E adesso andiamola a prendere quel legno Non lasciamolo là Bravi No Non serve col chiesse Il gladiatore Mannaggia tua mamma Bisogna andare avanti E prendere quel cazzo di legno Ecco cosa bisogna fare Sono comandi semplici Semplici Semplicissimi Dai prendete quel legno Bravi E ora questo Dai 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 Sì Ce la potete fare Giuro che ce la potete fare State mettendo a dura la prova La mia pazienza Va bene dai Se i pezzi bastano Vi faccio il legno Avete il legno Ora Piazzate Facciamo i muri Piano Bisogna fare i muri Adesso Ok No No Non con la terra Shutta La shutta Andate avanti Non indietro Andate avanti Non indietro Andate avanti Andate avanti Non indietro Andate avanti Scusami, ti sei spaventato Mi dispiace Dovete spaccare questa terra No, dovete spaccare questa terra Non mi piace questa terra, dobbiamo toglierla da casa Casa vostra fa schifo ragazzi Siete tra i peggiori giocatori di Minecraft Che io abbia mai visto al mondo Fate schifo a Minecraft Fate proprio schifo a Minecraft E' uno, veramente E' un gioco semplice per bambini Però voi siete ancora più piccoli Delle età media di Minecraft Non dovete spaccare quel blocco Dobbiamo piazzare, piazzare Piazziamo, vai Avanti, non capisco perché andate indietro Nonostante non c'è bisogno di andare indietro Non c'è assolutamente bisogno di andare indietro Andiamo avanti, andiamo avanti Una casa così piccola per 729 persone Già, vabbè Se volete spaccare questo, ok Allora, vai Sì Ah, vedi Beh, è piazzato bene questo Dai, piazziamo qua Ok Ok No, la terra no Terra non serve La terra non serve, chat Dove cazzo state andando, chat? Dove state andando? Bravi Oh, terra fa un culo Ora No, no Spaccatelo Dai, cazzo No, come dove cazzo li avete messi, chat? Ma state scherzando Vabbè, li toglieremo domani No, li volete togliere adesso? Li prendete Li prendiamo domani No, non dovete andare indietro Brutte merdine che non siete altro Gli Xauri 05 Di merda Andate avanti Andate avanti Per cortesia Non vi serve andare qui dietro Bravissimi Spacchiamo questi Facciamoci un'ascia Eh, ma sai che non è una brutta idea Farsi un'ascia Dopo ce la facciamo Allora, vai, vai Intanto entriamo in casa Intanto entriamo in casa No Non si entra così in casa Perché mo c'è la notte Vai, vai Spacchiamo questo blocco Così entriamo in casa O se no saltiamoci Vai Premete la V Entriamo in casa saltando Saltate, saltate Tanto c'è l'autojump Ok, dritto Un po' dritto 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 Oh, perfetto Abbiamo una casa Spacchiamo sto blocco Spacchiamo sto blocco Ok, perfetto Oh, adesso Vai, se volete Piazzate quest'ultimo Blocco di betulla Perfetto Questo pezzo di terra Io lo aggiungerei Perché Oh, chat Merda Ci siamo riusciti a fare una casa Visto No, non vi permetterò Di spaccare la casa Guarderò sopra Così non potrete fare niente Ce l'abbiamo fatta? E lo consideriamo Dentro al nostro goal? Vai, piazzate sto pezzo di terra No, no No, spaccate casa No, spaccate casa Piazzate sto pezzo di terra Piazzate sto pezzo di terra Manca il letto Eh, lo so Ora, ora ci facciamo tutto Ora ci facciamo tutto Sì, fra tre anni Allora, innanzitutto Manca una porta Scaviamo, scaviamo Chat, scaviamo Scaviamo, scaviamo Ci blocchiamo Vai, scaviamo È un po' piccola questa casa Che siamo bloccati Per cortesia Spaccate questi blocchi Perfetto Bravissimi Ok, adesso spacchiamo Pure questo Oh, basta, basta, basta Fermi, fermi, fermi Non serve spaccare più niente Fermi Mi metto sul legno Che tanto non ci riuscite Bla, 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 bla Non potete spaccare niente Allora, lascio solo questo qua Aperto Così Possiamo vedere Quando passa la notte Ok? Tanto il nostro obiettivo È sopravvivere a una notte Su Minecraft Questo va bene Questo io lo considero buono Lo considero buono Stiamo fermi Come siamo bravi Tutti azzardi A scrivere un messaggio simile Dai ma che palle No, chat Ma che cazzo Però è accogliente Allora Usciamo di qua Dai Facciamo un passaggio Vai, vai Spaccate, spaccate Facciamo un passaggio di qua Consultori così non li trovi in giro Eh, vedi No, ci entrano Ci entrano Chat, chat Riprendete i blocchi F No? Bravi, bravi Ok, perfetto, perfetto Perfetto, perfetto Di là ci entra No, piazziamo là Piazziamo Bravissimi Minchia Oh, bravi eh No, non ci blocchiamo Non ci blocchiamo Andiamo un attimino più giù Per scavare No, vabbè Non abbiamo il letto Dai Spacca, spaccate Spaccate Non bloccatemi qui Non bloccatemi qui Stavo leggendo un messaggio L'operatarte verrà mostrata ai musei Sì, fa schifo questa casa Chat È estremamente brutta Non c'è bisogno di Non c'è bisogno di Piazzare tutti questi blocchi Oltretutto c'è anche Il parametro fame Che io non ho considerato Va bene E proviamo a uscire Che dite? Vediamo se è passata la notte Vai, andiamo là Andiamo là Dritto Sì Spacchiamo un solo blocco Quello Bravi Ok Dritto, dritto Andiamo a vedere Come va la notte No, ancora Non va bene E c'è buio Ancora non va bene Scaviamo Andiamo a prendere Serve del legno Però Prendiamo questo legno Non basta questo legno Serve altro legno Non voglio farlo Ora che è notte Ci muoio Non voglio farlo adesso Non voglio farlo adesso Chat Piazzare non serve Ve lo assicuro Andiamo sottoterra Andiamo sottoterra Tranquilli Io so che sottoterra Va bene Ma se ci dassi 32 tnt e torcia Ma se ti do uno schiaffo Così impari l'educazione Ho overreactato Senza motivo Allora È ancora notte Chat Non so perché Stia depiazzando terra Secondo me dovete Spaccare Basta Serve solo spaccare Prodigio handicappato Vedi C'è pure nel nome Dai spacchiate Spaccate e basta Eh oh Si chiama così Che devo dire Si chiama così 09 Avevo dimenticato Lo 09 No non spaccate Quella pietra Come fa da spaccare Quella pietra Oltretutto Stiamo facendo una scala Per uscire fuori No L'hanno spaccate Chat L'hanno spaccate Andiamo avanti Andiamo avanti Sto sudando Ho bisogno Del condizionatore Più forte Abbiamo fatto Un botto Di legna Chat Abbiamo fatto Davvero Tanta legna Chat Si legna Terra Volevo dire Quando passa La notte Andiamo a controllare Andiamo a controllare No Old key Condizionatore Non funziona Vai Andiamo Andiamo a controllare Andiamo a controllare Bravi A me sembra Che sia ancora notte A me sembra Ancora notte Vero Eh vai vai Pgliate la legna Bravi bravi Cioè come cazzo fate A prendere la legna Da qua Lo sapete voi No non piazzate No No per nulla Avete sbagliato Che comunque ha premuto S È una testa di cazzo Dovete andare Dovete spaccare Vai Vai spaccate Spaccate Abbiamo bisogno Dell'inventario Ora no Non vi serve Lo apro io Ciao Luca Grazie dell'undicesimo mese Grazie a Ross Per il quarto mese Ad Andrea Per i 100 bit Grazie di cuore Sì sì ho visto Che sei tornato Grazie di cuore Per l'area sub Grazie a Neko Stream Casually Per la sub E a Ethan Per il prime Sudo Qua state facendo Dovete Dovete andare Dovete stare fermi State fermi Non vi serve niente Bloccare in questo caso Mettiamo un cartello Che ho scritto Casa della chat Utensili per aiutarci Adesso andiamo Il problema è che manca il legno Ed è notte Io non voglio uscire Ti supplico una torcia Dovete riuscire a farla voi La torcia Chat Non vi faccio niente Io È finita la musica Ok È ripresa la musica Allora Vai vai Spaccate Stare Usciamo Senti mi sono rotto il cazzo Vai usciamo 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 Vi porto fuori Andate a prendere la legna Andate a prendere la legna Chat Vai Fuori Fuori Up 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 Vai No Non dovete Mettere i blocchi Adesso non serve Ok bravi Spaccate questo Spacchiamo questo Vai Pichiamo quel legno Usciamo a vedere Prendiamo il legno E torniamo dentro Vai No Non indietro No Ce la stavamo facendo Ma chi è la merda Che l'ha fatto Dai Dai Su via Su via Tutto dritto Tutto dritto Vai spaccate Voi spaccate Voi spaccate Bravi bravi Spaccate tranquilli Ok spaccate questo E ora tutto dritto La V La V Non la S Non la S Auri Auri sto per bannarti Dalla chat Ti avviso Vai Vai Anche te Azule Mikulov Stai per essere bannato Dalla chat Per cortesia Avanti 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 Bravi 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 Ok Pichiamo sto legno Pichiamo sto legno Adesso pigliamo sto legno Pichiamo a prendere sto legno Tanto sta per fare giorno Vai 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 Si 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 no Non ce l'abbiamo fatta Si si no Si si no Si Oh cazzo Chat nel buco Chat nel buco Chat nel buco Oppure fate così Bravi No chat nel buco Vi prego nel buco Nel buco Vi prego Andate nel buco Andate nel buco Chat vi prego Andate nel buco Davanti Andate davanti Chat davanti Non indietro Ebbene di merda Non devo urlare Mi caccio nei vicini Andate avanti Andate avanti 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 Dovete andare avanti Dovete solamente andare avanti Si 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 Giù Giù per il tubo Tasto destro Tasto destro Bloccate tutto Tasto destro Tasto destro che entrano Tasto destro che entrano Chat Dai Dai Tasto destro che entrano Si si Madonna chat Ma siete incredibili No 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 Ma Ma quanto ci sta a morire un cristiano qui su minecraft Oh Gesù cristo ce l'abbiamo fatta chat Tenete altro legno Tutto vostro Avete la crafting table adesso Decidete dove piazzarla voi Uscite fuori e piazzatela Piazziamole in casa anzi Che ormai è tutto tranne che una casa Perché non ci ho pensato prima No no Via 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 Shot Bravi Ora Altro legno Piliamo il legno Piliamo il legno Piliamo il legno e facciamoci una spada per cortesia No Indietro non serve Indietro non serve Vi assicuro che indietro non serve Vi assicuro che indietro non serve Scusatemi mi sono distratto un attimo Ci sono Datemi un secondo preciso A posto rieccoci Vai Legno Legno ce la possiamo fare Questo lo volete di più Lo volete di più Ciao intanto Alfasa Per il Prime Grazie di cuore per la sub Bello Vai Questo legno mi piace Questo legno mi piace Credo che possiamo prendercelo No Non così Sicuramente Non serve prendere i semi nel primo slot Però serve prendere questo Serve prendere questo Bravissimi No No Dai No non serve andare indietro Lollo duro Te lo assicuro Serve andare avanti e prendere il legno Serve andare avanti e prendere il legno Vai andate Andate È semplice Vai Sì Siamo bravi Dai Oh beh Però l'avete preso Un pezzo di legno L'avete preso Cioè siete Avete molti Problemi Chat Ammetto che avete tanti problemi Motori Però sì dai Siete dei giocatori di Minecraft Allora Se io Sono uno scarso giocatore di Minecraft Voi siete la merda Della merda Cioè vedi Tipo in questo momento Io dovrei prendere il legno Voi invece Eravate indietro A fare No Non va bene André che si ha scoperto il trucco Allora Vai Legno 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 Piangendo Non ce la faccio più Voglio staccare la life Voglio fare solo una spada Un'accetta Andiamo a fare un'accetta Dai Dai Prendete sto cazzo di legno Vi trovo la posizione E vi ammazzo Minchia Sai quelli Quegli youtuber Che fanno tipo Vado a casa Dei miei fan A fargli una sorpresa Ecco io lo faccio pure Vi metto il form Con l'indirizzo di casa Arrivo a casa vostra E sgozzo la vostra famiglia Ecco che cosa faccio Sì Sì No 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 Sto ricevendo più insulti Da po' della mia Che nella vita intera Chat Siete 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 degli omunculi Siete dei bastardi Siete dei maledetti Mi sta Mi avete fatto stressare Con una live di minecraft Siete incapaci Siete incapaci Siete totalmente incapaci Non avete Non avete Non sapete fare squadra Non sapete collaborare Tra di voi Siete 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 delle merda Ecco cosa siete Siete incapaci Io credo che Lo streamer da 20 spettatori La sua chat Ci sarebbe riuscito Invece no Noi dobbiamo fare La figura di merda In quanti siamo Siamo in 700 E non riusciamo a A prendere un pezzo di legno Guarda sta là Il pezzo di legno Non riuscite a prenderlo Poi da un'ora Che dice di prendere il legno Oh Andate avanti Andate avanti Oh Proma Abbiamo due pezzi di legno Andiamo a farci la cosa Vai vai Andate là E aprite la crafting No Non così Vai aprite la Tasto destro Tasto destro Tasto destro Ok Ve la faccio No Non mi ricordo come si fa Scusate Faccio più schifo di voi A giocare a Minecraft Abbiamo Ok Ci facciamo pure Il piccone Vai Andiamo a prendere la pietra Cortesemente Forza Abbiamo L'accetta Ora è molto più facile Prenderlo Ora è molto più facile Prenderlo Anzi andiamo in quello Che mi buttate via Andiamo avanti Dovete prendere l'accetta In mano Esatto Non il piccone Ecco vedi L'unica cosa che non dovevate fare L'avete fatta State spaccando la legna Col piccone Avete una cazzo di ascia Nell'inventario Che vi permette di spaccarlo Oh mio dio Finalmente Scusate Questo è stato esagerato Perché la state mettendo Nell'altra mano Avete per caso Qualche neurone Che non funziona Dovete Dovete tenerla Ok Sta nello slot 2 Chat No F non serve Serve a mettere nello slot 2 Oh mio dio Sto impazzendo Sì bravi bravi Voi andate Voi andate Che stiamo facendo qua Non serve più la legna Andiamo in miniera Chat Vai Tutto dritto Tutto dritto Andiamo in quella che abbiamo scavato in casa Vai In casa chat In casa Tutto in casa No State andando indietro Chat Vi assicuro che la S La W Sono due lettere distanti Io prima di questa Cioè io prima di questa live Sapevo che prima di fare la Minecraft La chat Gioca a Minecraft Dovevo fare la chat Impara l'alfabeto Probabilmente Sono stressato Mi devo fare un tè Devo farmi una camomilla Sono sudatissimo Devo abbassare Quanto metto? Di 18 gradi Andate in casa La W W W W W Non a destra Non a La W La W La cazzo Di doppia Sputato tutto il microfono Sputato tutto il microfono Sputato tutto il microfono No Dovete entrare qui Bravi Ok Microfono pulito E ora Prendiamo la pietra Chat E ora la pietra E ora la pietra No Avete sbagliato totalmente Avete totalmente Sbagliato Ok Sì Sì Bravi 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 No Non dovete usare la betulla Dovete usare il piccone Esatto No Non serve andare negli altri slot Serve usare questo Serve usare il primo slot No Non la F Non serve Ok bravi Oh Uno Ne servono tre pezzi Cortesemente Tre pezzi ne servono Tre pezzi servono Ecco Ora c'è questa cosa che Oh Sì Sì Un tre Ce ne due Vai l'ultimo Rimettetelo a posto il piccone Non mettetelo nella mano sinistra Oh mio dio Perché ho pensato che quel comando fosse Fosse interessante da aggiungere Ok Età della pietra Tre Vai Sopra Crafting table Chatter Crafting table Subito Subito alla crafting table Subito alla crafting table Vai Subito Subito Tasto destro Tasto destro Tasto destro Tasto destro Non il sinistro Non la spaccate Chat Dovete premere il tasto destro Dovete premere il tasto destro X O Ok E dov'è il piccone Vabbè non serve Dove cazzo è il legno Per favore potete Potete mettere No dai Potete premere F Per favore Così non mi mette la betulla qua Ok perfetto No Abbiamo il piccone in ferro Chatt Sì vabbè in ferro Apposta Avete il piccone Vai Si va a prendere il ferro Giù In miniera Giù in miniera Ma chi è che lo mette Nell'altra mano È arrivato il momento Di batter l'ender dragon Vai Andate in miniera Chat Tutto dritto Adesso troviamo la miniera Voi scavate Tutto dritto Tutto dritto No Non a destra Non a sinistra V La doppia V La doppia V La doppia V Ecco bravi La doppia V serviva Solo quella Serve Le altre non servono Vai Si va in miniera Si va in miniera Voglio trovare un pezzo di ferro Vai In miniera Non collascia Non collascia Col piccone Esattamente Non collascia Non collascia Avete messo Il piccone Nella mano sinistra Avete messo Il piccone Nella mano sinistra L'avete messo Di nuovo La deve tornare Qua Perfetto Perfetto Ora Bravi No No Ecco vedi Non serve Non premete F No lasciatelo là Non premete F Non premete F Lasciatelo là Non serve Sta andando O sbaglio O sbaglio Stiamo andando O sbaglio Non si vede Un cazzo Eh lo so Raga Non avete fatto Le torce Che è colpa mia Cioè voi state Spaccando la pietra A mano Vai Giù Andiamo giù Chat ma chi è che cambia Obsessed Col 69 Ma che c'è La merda Nel cervello Perché hai premuto uno Andate avanti Forza Andate avanti Andate avanti E spacchiamo Giù Dove cazzo Volete voi Basta che vi muovete Andiamo giù Non spammare Ercucuz Per favore Non serve Mettere una mano sinistra Ma perché l'avete messo Nella C'è una miniera Vai Vai C'è una miniera Vai Oh Eccoci Adesso troviamo Il ferro Chat Cosa Carbonziong Là Prendete il Carbonziong Mi viene il nome Col piccone però Se tenete il piccone Nell'altra mano Non lo prenderete mai Porca troia Di una maledetta Bastarda Mettete quel cazzo Di piccone Nella mano destra Dio santissimo E facciamo il giochino Destra e sinistra Ho staccato un poster Oggi ho scoperto Che si possono staccare I poster a pugni Ho preso un pezzo di carbone Vai 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 andate a prenderlo Andate a prenderlo Quel pezzo di piccone Pezzi di merda Andate a prendere Quel pezzo di piccone Quel pezzo di carbone La figli di puttana Adesso scendete giù E finita Non si posso creare Finita la miniera Non è possibile Non è possibile Giorgio 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 XXL Hai la sab Però sei una merda Sei una merda No non è vero Magari l'hai fatto Perché lo volevi rimettere A posto Non l'hai fatto Per sabotarmi Ti voglio bene Giorgio XXL Non sei una merda Sono una merda Tutti quelli senza sub Che lo fanno Ecco che è una merda Gioca la chat No sto giocando io Come puoi vedere Infatti sono Sono io che faccio Cacare al cazzo Non è assolutamente La chat No non voglio guardare Harry Potter Sono così adirato Che troverei Tutti i buchi di trama Dai scendete in miniera Dovete andare avanti Dovete andare avanti Sono tutto sudato Vai Chi è che sta andando indietro Perché state andando indietro Dobbiamo trovare una miniera Sentite fate cacare Fate cacare al cazzo Fate schifo chat Fate altamente schifo Basta Voi e Minecraft Non dovete mai più giocare insieme Basta Ve ne dovete andare a fare in culo Chiudete Minecraft Se vedete gamer Giocatori di Minecraft o altro Fine Fine Hanno aperto NordVPN Io non ci posso credere Mi hanno staccato la live Non è possibile questa cosa Hanno aperto NordVPN E mi hanno staccato la live Tu ci puoi credere? Ci puoi credere? L'hanno appena fatto Non è possibile Non è assolutamente possibile Che questa cosa sia successa davvero Non è successa davvero Non è possibile Non è possibile? Non è possibile Non si sta riconnettendo Porca puttana Hanno attivato Non lo so cosa hanno fatto Hanno attivato NordVPN Premendo qualcosa Niente È morto totalmente Ciao Come state ragazzi? Tutto bene? Mi sentite? Allora Dovete sapere Dovete appena Io vi devo raccontare Cosa avete appena fatto La live è crashata Sapete perché? Perché mentre vi insultavo Alla fine Ok Mentre alla fine Vi stavo insultando Ok Molto semplicemente Voi Giocando Mentre io sono uscito Da Minecraft Avete aperto L'applicazione Di NordVPN E mi avete Connesso A un altro stato Questo non è un placement Non è assolutamente Un placement Di merda C'è la fottuta app Di NordVPN Lì Guarda Ve lo faccio vedere Qua No non si vede Manco per il cazzo Adesso No perché è tagliato Ricaricate la pagina Ma scrivilo Ah ok Vabbè Lo scriveranno Ecco l'ha scritto Prince Che stavo dicendo Vabbè c'è l'app Di NordVPN L'app Mi avete Mi avete Fatto crashare La live Perché mi avete Connesso Non lo so Mi avete connesso In qualche posto Di merda Basta Adesso andatevene A fare in culo Io stacco la live Dormite bene Ci vediamo Quando vorrò Attaccare la live Fra un anno Forse Appena voglio vedere Di nuovo Le vostre facce Di merda Io riattacco la live Ok potrebbe essere Fra un anno Potrebbe essere Fra un mese Potrebbe essere Fra dieci mesi Vaffanculo Vaffanculo Questo è quello Che vi meritate Per come mi avete Trattato stasera Vaffanculo Grazie a tutti